ciao a tutti ragazzi a grande richiesta ho deciso di fare un piccolo tutorial su un programmino per le videoconferenze un programmino molto semplice che non dà l'obbligo di scaricare assolutamente nessun programma sul computer a meno che qualcuno voglia utilizzarlo col telefono allora sì lì bisogna scaricare l'app questo programmino è open source e si chiama gizzi meet basta aprire internet e andare sulla sulla barra sulla barra di ricerca a scrivere gizzi meet facciamo gizzi meet e dare invio a questo punto mi si apre questa pagina devo andare a cliccare su questo qui che fra l'altro nel mio caso è qui al primo posto proprio scritto così gizzi meet clicco e mi si apre questa schermata a questo punto è semplicissimo basta andare qui dove c'è scritto inizia una nuova riunione dare un nome alla riunione per chi vuole far partire la riunione o sapere il nome della riunione e scrivere il nome della riunione per chi vuole entrare a far parte di questa riunione videoconferenza e dare partire adesso facciamo un esempio andiamo a scrivere qui polenta 67 una cosa a casa è molto importante quando quando si dice a un amico che vuole entrare il nome è molto importante rispettare le maiuscole e le minuscole per cui se scrivo polenta 67 polenta maiuscolo dovrò dire al mio amico di scriverlo nella stessa maniera una volta scritto il nome basta scrivere schiacciare cliccare su partire e mi si apre la via di alta in questo caso qui al centro non mi vedete perché la mia videocamera è già impegnata a prendere a catturare il video che vedete qui in angolo semplicissimo ragazzi non ho altro non ho altro da dirvi su questo programmino se non proviamo e ritroviamoci ancora una volta stabilite quando è così e così ci rivediamo e ci divertiremo tutti quanti ok un grosso bacione ciao ciao